Nello scorso weekend, medici e scienziati da tutta Italia si sono riuniti a Pesero in occasione della due giorni di convegno, la colonna vertebrale e i fattori di rischio. All'hotel Baia Flaminia è andata in scena una occasione di approfondimento per incentivare la prevenzione a scuola e nel mondo del lavoro del mal di schiena, una patologia tanto sottovalutata quanto invalidante nonché aumentata dell'11% durante il tempo di pandemia. L'appuntamento è stato organizzato dalla Fondazione Scogliosi Italia Onlus e dall'Ordine dei Medici Chirurghi e dell'Oedontoiatri della provincia di Pesero Orbino, un convegno che ha affrontato tanti argomenti collegati tra loro da comuni fattori di rischio come sedentarietà, obesità, fumo, ansia e stress che sono causa di disfunzioni metaboliche che di alterazioni a carico della colonna vertebrale. Argomento principe è stata la scogliosi idiopatica dell'adolescenza che colpisce l'80% di tutte le scogliosi e che si manifesta fra i 10 e i 15 anni, così come è stata affrontata la tematica delle diagnosi tardive a causa della rinuncia alle pratiche di screening da oltre 20 anni. Prevenzione è dunque la parola d'ordine per scongiurare processi degenerativi o interventi chirurgici evitabili. Una tematica di transizione dall'evidenza scientifica all'attuazione pratica sviluppata sul doppio filone dell'educazione sanitaria in ambito sia scolastico che lavorativo. Tante autorità hanno applaudito il convegno, dal sindaco Riccia al rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini, dalla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni al presidente dei medici Paolo Battistini. Tantissimi gli interventi medico-scientifici nella due giorni coordinata dal medico-kinesiologo Luigi Magarò, da Marco Braida Bruno a Pinuccia Caspani, passando per Davide Schembri, Giovanna Guerra, Barbara Ferrioli, Alvaro Corigliano, Stefano Magarò, Barbara Sebastiani, Massimiliano Cecchini, Marco Nulli e Giovanna Biasi. Devo dire che il livello, grazie all'impegno del professor Luigi Magarò, è stato sicuramente molto alto, non tanto per l'aspetto strettamente scientifico, medico, specifico, ma per la interdisciplinarietà che ha consentito di fare un convegno che ha coinvolto molto tanti attori del problema legati alla schiena. Quindi sia nell'età dello sviluppo, quello di cui abbiamo parlato ieri, quindi della prevenzione attraverso una diagnosi precoce, che è poi il progetto della Fondazione Scoliosi Italia che già il professor Magarò ha perseguito nell'arco di questi anni qui a Pesaro e oggi invece su quelle che sono le conseguenze, i fattori di rischio per il mal di schiena nell'adulto. Parlando anche di casi molto gravi, come abbiamo mostrato questa mattina, però è molto più importante la prevenzione da fare sul territorio e nell'ambiente del lavoro che è emersa questa mattina, anche con altre patologie come l'osteoporosi, le malattie metaboliche e questo sicuramente è un livello importante. Sicuramente noi avremo la possibilità di far sì che Pesaro, in questo senso, l'area nord delle Marche, possa diventare un laboratorio per questi progetti sia nella scuola che nel mondo del lavoro che possano a quel punto diventare una buona pratica da poter diffondere anche in altre parti d'Italia. Su questo campo lavoro dal 1980 e quindi ho voluto, a un certo punto, viste poi le criticità che venivano sempre più avanti, abbiamo lavorato sul mal di schiena, sulla scoliosi e purtroppo però manca lo screening, il mal di schiena aumenta, ho pensato e ho fatto questa proposta di riunire esperti in questo settore per discutere e vedere come poter creare una rete multidisciplinare e affrontare il problema da più parti perché come è venuto fuori in queste giornate un solo esperto, mi sembra che si è capito che ha bisogno anche, non esclude gli altri, anzi è stato chiesto, è stata fatta come dicevo prima anche una revisione critica anche da parte del professor Braida, anche per quanto riguarda gli interventi. Quindi abbiamo avuto due giornate, per me molto soddisfacenti e utili per il futuro perché questo è quello che dobbiamo fare, cioè sul territorio.